Sono contento sinceramente perché vedere questo tipo di applicazione, questo tipo di atteggiamento di questi giocatori gratifica quanti sporsi facciamo ogni giorno. Sei vittorie consecutive, 7 su 8 partite, ma soprattutto quella posizione in classifica là in alto, soprattutto insieme alle corazzate Milano e Reggio Emilia e alla rivelazione Trento. È l'anno dei record per l'Avanoli Cremona, di squadra e personali, così ha battuto quello dei punti 45 con 18 su 21 al tiro in tre gare. È l'anno di grazia, almeno fino ad ora ed è giusto godersi il momento. Uso un hashtag e una frase che piace molto al nostro General Manager che è testa bassa e lavorare. Noi anche stamattina continuiamo il nostro lavoro quotidiano di tutti i giorni, un lavoro che nasce dall'idea, dalla volontà e dalla forza del nostro Presidente che è Aldo Vanoli che ha permesso e permette tutto questo. Quindi ringraziamoci tutti i giorni il momento principale a lui e in meriti soprattutto a lui. Devo dire che è stato, è un bel progetto questo della Vanoli Family anche perché il Presidente da quest'anno ha allargato all'interno del CDA nuove figure come Alberto Pontevichi di Sapiens, c'era già Davide, è entrata anche Ruth e quindi è importante questo progetto tutti i giorni per sostenere quello che è la squadra perché il merito principalmente dei ragazzi della squadra è lo staff tecnico e di Andrea. È una sensazione stranissima. Anche sui soci e sui siti i nostri tifosi hanno ringraziato questa sensazione bellissima che si prova che non abbiamo mai provato. C'è molta soddisfazione perché credo che i risultati raggiunti siano frutto di un lavoro e di una progettualità nata quest'estate e comunque anche l'anno scorso. Io credo che alla fine abbiamo in società tutte persone che in questo momento stiano lavorando per la causa una grandissima passione per la pallacanestro e questo si respira. Sono cose forse intangibili perché alla fine sono i giocatori protagonisti in campo, però è il lavoro che ci sta dietro che mantiene viva questa cosa e poi i risultati arrivano. Lo sport è fatto di record. Forse per la nostra realtà in questo momento ne stanno arrivando uno dietro l'altro. Speriamo di parlare di record anche a fine stagione. Sicuramente bisogna godersi il momento. Oggi domani cominciamo a parlare ai ragazzi, a tenerli tutti quei piedi per terra, però credo che abbiamo anche in squadra gente consapevole e profondi conoscitori dei propri mezzi. Quindi credo sia anche un po' più semplice. Forse non le ho ancora provate, però da giocatore sono le vittorie che ti danno magari lustro o che danno soddisfazioni. Adesso mi godo questa piccola soddisfazione, ma più che altro mi piace per la realtà che siamo e per la città. Vedere il palazzetto pieno sia una grandissima soddisfazione.